I consorzi si devono adeguare sempre più a queste nuove emergenze climatiche. Da una parte avremo momenti sempre più siccitosi, quindi scarsità d'acqua, dall'altra avremo invece momenti molto piovosi, quindi grosse quantità d'acqua da smaltire. Il nostro consorzi ha cercato di adeguarsi e di prepararsi sia all'una che all'altra emergenza. Nel corso dell'estate abbiamo cercato di distribuire acqua per soddisfare tutte le richieste e grazie al sistema CER non siamo mai rimasti sprovvisti di questa importante risorsa. Abbiamo distribuito quindi nelle nostre campagne quasi 70 milioni di metri cubi d'acqua e questo ha voluto dire, in termini più o meno spannometrici ma molto vicini, una possibilità alla nostra agricoltura di non avere danni per oltre 200 milioni di euro su tutto il nostro territorio. Quindi bisogna che i consorzi si attrezzino sempre più, una volta che abbia a disposizione questa risorsa, per distribuire capillarmente l'acqua. Dall'altra ci stiamo preparando, visto che la stagione invernale sta arrivando e quindi abbiamo già avuto un assaggio di quello che può essere l'andamento climatico, a stagioni piovose, ma stagioni piovose con tempi stretti ma con grosse quantità d'acqua e quindi dovremmo ritornare un po' all'origine di quella che è la mission dei consorzi, cioè della bonifica vera e propria e quindi di allontanare queste notevoli quantità d'acqua. Noi cerchiamo di mantenere il più efficiente possibile tutta la nostra reddita scolante che è di quasi 1000 km di canali e naturalmente anche con gli impianti drovori, certamente con la costruzione anche di casse di espansione. Certamente se arrivano sul nostro territorio anche le grosse quantità che si sono avute nella regione limitrofe potremmo avere momenti di criticità. Ecco perché bisogna continuare a insistere su questo versante, quindi sul versante della bonifica, sul versante della manutenzione della rete scolante, sul versante quindi della prevenzione in generale, quindi prevenire perché se non lasciamo stare, se non manteniamo efficiente la nostra rete scolante potremmo andare in difficoltà. Grazie a tutti!